Un'intelligenza artificiale creata da te, in più ci guadagni ed è gratis. Cosa vuoi di più? È proprio la combo perfetta. Girando per il web ho trovato una piattaforma che stavo cercando da un bel po'. Uno strumento che ti permette di creare ed addestrare una tua intelligenza artificiale in modo facile e gratuito. Ma allo stesso tempo potrai vendere le AI da te create e guadagnarci. Sto parlando di MindStudio. Questa piattaforma, come ti ho detto, è gratuita e consente a chiunque di creare AI personalizzate, senza alcuna conoscenza di codice. Loro praticamente utilizzano dei modelli come ChatGPT4, Cloud. Man mano che poi l'ecosistema AI migliora, come ci dice qua, l'intelligenza artificiale che hai creato praticamente vengono aggiornate automaticamente. Puoi addestrare la tua intelligenza artificiale caricando file di testo, PDF, CSV, HTML. Puoi caricare libri, documenti, fogli di calcolo, manuali, articoli, email, post di blog, siti web e tutto il resto. Come vedi, puoi ampliare l'addestramento della tua intelligenza artificiale illimitatamente. È molto facile sia da creare che da pubblicare e ti genera entrate ricorrenti. Puoi metterla a disposizione anche di altri utenti in modo gratuito oppure con un pagamento ricorrente. Segui tutto il video, prima di passare allo strumento ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Una volta iscritti al sito, entriamo nella dashboard, dove troviamo tantissime AI create da altri utenti. Come puoi vedere, sono veramente tante, forse sono più di 1500-2000. Sono divise per categorie principali, come vedi qui sulla sinistra, e sono addestrate per lavori specifici. Come vedete, ce ne sono alcune gratuite, ad esempio come questa, e alcune a pagamento, ad esempio come questa qui. Qui ci dice che il prezzo è di 2 dollari al mese. Ad esempio, se noi vogliamo aprirne una, tipo questa qui, Social Media Strategist, traduco la pagina in italiano, ci dà la spiegazione. Ci dice che Social Media Strategist è un assistente per la gestione dei social basato sull'intelligenza artificiale, che canalizza la tua attuale presenza sui social media e fornisce consigli strategici su misura per i tuoi obiettivi aziendali. Esamina i tuoi account, ottieni consigli personalizzati sulla cadenza di pubblicazioni, formati di contenuti, nuove funzionalità da sfruttare, come Reels o Storie. Un calendario organizzato sui social media per mantenere costanti i tuoi sforzi. Quindi questo è quello che ci promette questa intelligenza artificiale. Possiamo aprirla e come vedete ci chiede il nome della nostra azienda, quindi in questo caso mettiamo il nome del canale. Clicchiamo su Next, qui ci chiede quali sono i nostri obiettivi attuali sui social network. Ad esempio qui vi ho detto maggiore notorietà del brand, avanti. Qui ci chiede se abbiamo un programma di pubblicazione coerente con tutti i nostri social network. Sto mettendo comunque risposte a caso. Qui ci chiede se interagiamo con il nostro pubblico. Metto di sì. Allora questo è quello che ci dice dopo le varie risposte, comunque ne ho saltate qualcuna proprio perché erano un pochino lunghe. Ecco quattro suggerimenti di idee per contenuti personalizzati per il tuo canale TikTok. Offri ai tuoi follower uno sguardo approfondito su una giornata tipo di gestione delle tue attività, domande e risposte sul tuo settore, reagisci ai vecchi video aziendali, di consulenza aziendali in 60 secondi. Quindi qui ci va a dare delle idee. È chiaro che ho saltato molti step e quindi il suggerimento non è completo. Però da questo punto in poi è come se stessimo parlando con un nostro collaboratore che ci gestisce i social media. Ok, torniamo sul focus del video e andiamo a vedere come creare una nostra intelligenza artificiale. Se avete qualche suggerimento di un AI che potrei realizzare, scrivete nei commenti hashtag realizza e poi scrivete la vostra idea. Io prenderò tutte le vostre idee, ne farò un sondaggio e quella scelta in pratica poi la realizzerò per un prossimo video. Allora abbiamo due modi per creare una nostra AI. Il primo è questo, cioè creare un'intelligenza artificiale completamente da zero. Quindi andiamo qui su crea, qui ci dà delle nostre creazioni, andiamo su nuova AI. Come vedete ci esce questa finestra e ci mostra tutti i template che possiamo utilizzare. Qui c'è una pagina vuota, oppure per esempio se ci serve l'assistenza clienti per il nostro sito web o peraltro c'è questo template. Qui c'è un generatore di contenuti. Un altro modo per creare la nostra AI è questo. In pratica andiamo in esplora, dobbiamo praticamente scegliere un'intelligenza artificiale che sia remixabile. Di solito solo quelle gratuite hanno la possibilità di essere remixate, quindi andiamone ad aprire una. Ad esempio utilizziamo questa qui che serve per ottimizzare un canale YouTube. L'apriamo, in alto a destra troviamo questi tre puntini e vediamo che c'è la voce remix. Quando questi modelli hanno la voce remix significa che si possono clonare. Se noi ci andiamo a cliccare sopra, come vedete questo crea una copia esatta dell'intelligenza artificiale che abbiamo scelto. Anche se ad impatto vi sembra difficile, credetemi che non lo è. Quindi seguitemi passo passo perché è veramente facilissimo. Allora l'interfaccia si divide in tre aree. La prima area è questa qui a sinistra, che in pratica che cosa fa? Contiene i dati di addestramento e i dati che raccoglie dagli utenti. Qui ad esempio puoi personalizzare l'interfaccia per le domande che l'intelligenza artificiale fa agli utenti che la utilizzano. Se andiamo a cliccare su aggiungi, new prompt, come puoi vedere qui possiamo scegliere il tipo di prompt. Quindi questo qua con due scelte, questo con la slider. Qui sotto abbiamo il layout. Qui settiamo l'immagine e il testo che ci possiamo inserire qui dentro. E qui andiamo ad inserire il testo proprio del prompt. Vedete, questo poi è la richiesta che noi facciamo all'utente. Mentre al centro ci sono le istruzioni che dà l'intelligenza artificiale per interfacciarsi con noi. Allora se noi andiamo a tradurre ad esempio queste qua. Le istruzioni sono queste. Il tuo compito come assistente AI è aiutare i creatori ad ottimizzare i loro canali YouTube. Quando generi suggerimenti considera questo. L'interesse del pubblico, la SEO e la ricerca di parole chiavi, stile e preferenza del creatore, argomenti di tendenza. E qui gli diamo la spiegazione. Poi gli diciamo il canale YouTube del creator che stai aiutando è... E come vedete qui ci sono queste parentesi con questa scritta in rosso. Channel name e channel content. Prenderà in considerazione questi utenti, l'audience e i goals. Quando suggerirà i tecniche di ottimizzazione. Allora quindi qui gli stiamo dando delle istruzioni. Allo stesso tempo però stiamo dicendo da dove deve prendere quello che l'utente ha inserito. Quindi che cosa dobbiamo fare? A questo punto andiamo qui sulle variabili. Come potete vedere questo channel name e questo channel content sono nient'altro che queste variabili. Channel name e channel content. Queste variabili si collegano con questa interfaccia che noi abbiamo creato qua. In questa prima finestra che ci esce dove ci chiede il nome del nostro canale. In pratica questo testo che noi inseriamo verrà salvato nella variabile channel name. La stessa cosa succederà con channel content. Poi gli diciamo di prendere in considerazione l'audience, quindi il pubblico e i goal, quindi gli obiettivi. Se noi andiamo a vedere qui sotto c'è l'audience e gli obiettivi. Ok mettiamo il caso che noi vogliamo creare una nuova variabile. Che cosa facciamo? La prima cosa da fare andiamo qui. Andiamo ad aggiungere un nuovo prompt. Molto velocemente facciamo questo. Andiamo a proporre una scelta al nostro utente. Più di mille o meno di mille. Che cosa? La richiesta è questa. Quanti iscritti hai il tuo canale YouTube? Clicchiamo su salva. Come vedete qui abbiamo questo nuovo blocco. Torniamo qua. Il contenuto di questa richiesta, quindi questo prompt, è stato inserito qui. Allora io voglio aggiungere un'altra variabile, quindi clicco su questo più. Vado ad inserire questo prompt sotto questa variabile e cambio il nome della variabile in iscritti. In questo caso la variabile iscritti l'ho fatta per farvi capire come personalizzare poi le variabili e come collegarla al prompt. Collegamento che deve essere fatto anche nell'istruzione che noi gli stiamo dando all'intelligenza artificiale. Quindi in questo caso qui prenderà in considerazione gli utenti in audience, quindi quello che c'è scritto in audience e in goal, e quello che c'è scritto in iscritti, ok? Quindi qua andiamo ad aggiungere end la nuova variabile iscritti. Ora andiamo qui su automazioni. Praticamente utilizzi le automazioni per creare dei flussi di lavoro. In pratica l'intelligenza artificiale interagisce con l'utente ancora prima che l'utente gli dia un input. Come potete vedere qua, qui c'è proprio il percorso che l'intelligenza artificiale fa. Inizia con personalizza, che sarebbe questo. Quindi inizia con farti queste richieste. E poi qui c'è un input che si deve inserire. Come vedete in questo caso se noi vogliamo aggiungere altri input, tra uno e l'altro oppure dopo, basta cliccare qui. Possiamo inserire un messaggio, oppure un input, oppure possiamo inserire dei dati. Clicchiamo su input, ad esempio lo mettiamo qua, spostiamo tutto. Io già l'ho inserito qua, però in questo caso anche qui potevo inserire l'input iscritti, ok? Ok? Cancelliamolo. Come si va a settare l'input? Molto semplice. Come vedete, se noi selezioniamo ci cambia il cerchio e quindi ci fa capire di quale blocco stiamo parlando. Selezioniamo il blocco audience. Qui ci sono i settaggi di questo blocco. Qui c'è il tipo di input che possiamo inserire, quindi il testo, un link, un documento, oppure un file Excel. Qui c'è la richiesta che ci fa l'intelligenza artificiale, che è qual è il pubblico di riferimento. La risposta dell'utente va in questa variabile audience, che poi sarebbe questa qui. Il blocco successivo, come vedete anche da qui, sono i goal, quindi è la stessa cosa. Blocco successivo, quindi finiscono le variabili, l'invio del messaggio da parte dell'intelligenza artificiale e gli diciamo Genera 5-10 suggerimenti per ottimizzare il mio canale YouTube, ok? E prendi contenuti da quello che ti abbiamo detto qua, quindi quello che c'è in channel content. Abbiamo detto che channel content era la risposta a questa seconda richiesta che ci faceva. Per il nostro pubblico, e noi abbiamo risposto alla richiesta del pubblico qui, in questo blocco, qui gli diciamo che corrisponde ai miei obiettivi, cioè gli obiettivi del canale che ti abbiamo detto qui. Quindi qui ci restituisce i suggerimenti per ottimizzare il nostro canale in base a tutti i dati che gli abbiamo dato. In questo caso potrei ad esempio scrivere qui di prendere in considerazione gli iscritti, infatti noi l'abbiamo data come variabile, ok? Quindi gli potrei dire se il goal in generale, se gli obiettivi in generale sono 10.000, io gli posso dire che se è maggiore di 1.000 la quantità degli iscritti che ho ora, dammi dei suggerimenti per farmi arrivare al più presto a 5.000. Oppure se sono meno di 1.000, dammi dei suggerimenti per arrivare al più presto a 1.000 iscritti. Quindi questo è solamente un esempio, non è collegato a nulla, ma è solamente per farvi capire il modo di gestire questa intelligenza artificiale. Una volta che ci restituisce questo messaggio, allora qui c'è la vera e propria chat. Quindi possiamo chiedere qualsiasi cosa che sia inerente a quel tipo di argomento e ci restituirà determinate risposte. Su un model setting possiamo impostare il modello, come vedete possiamo impostare GPT4, GPT3.5, Cloud1, Cloud2, abbiamo diverse scelte. Qui possiamo impostare la temperatura che come sappiamo se è vicina all'1 in pratica ci darà risposte più creative ed uniche. Mentre qui impostiamo la dimensione massima delle risposte, quindi la possiamo spostare da qui ad esempio a 2005. Allora qui su pubblica invece possiamo chiaramente impostare il nome, una piccola descrizione, i tag. Possiamo impostare l'immagine, questa è la landing page, in pratica è quella pagina che ci esce subito, dove ci spiega che cos'è e a cosa serve questa intelligenza artificiale. Questa è per la condivisione, possiamo renderla pubblica o meno, possiamo renderla remixabile o meno, cioè quello che abbiamo fatto adesso. Qui invece possiamo impostare il prezzo, non lo possiamo fare con il piano gratuito, ma dobbiamo avere un piano a pagamento. Una volta che abbiamo fatto tutto, qui in alto a destra abbiamo il pulsante per pubblicare e poi abbiamo questo per vedere la preview. Quindi in questo caso io non ho cambiato il titolo, non ho cambiato nulla. Clicchiamo su Open, quindi qui ci chiede il nome del nostro canale, io metto Felix in Business. Qual è il focus? Scrivo AI proprio per dare una risposta veloce. Quanti iscritti hai il tuo canale? Come vedete questa è la variabile che abbiamo inserito noi, faccio più di mille. Quindi qual è la tua audience? L'obiettivo. E qui ci va a generare una risposta. Ok, io ho saltato diverse variabili per velocizzare il tutto. Quindi questa è la risposta che abbiamo impostato, che tiene conto di tutto quello che ti abbiamo detto noi. E poi possiamo iniziare una vera e propria conversazione con l'intelligenza artificiale. Come avete visto è veramente semplicissimo utilizzare questo strumento. Se vuoi suggerirmi un AI da realizzare, scrivi nei commenti hashtag realizza e poi scrivi la tua idea. In questo modo io prenderò tutte queste idee, farò un sondaggio e quella che vincerà ci farò un video prossimamente. Scrivimi anche cosa ne pensi di questo strumento. Se ti è piaciuto il video ti invito ad iscriverti al canale e lasciarmi un like. Attiva la campanellina per restare sempre aggiornato. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!